Maestro, una mostra per celebrare la permanenza di Wagner e i vent'anni del gemellaggio fra la Spezia e Bayreuth. Partiamo da un luogo simbolico. Partiamo da qui, qui siamo da Panino al Suprema. Qui vicino c'è una grande scultura che è un bravo scultore russo, ha donato la nostra città. La gemella sarà inaugurata a Bayreuth tra qualche giorno, stesso giorno della mia mostra. E perché ho scelto questo posto? Qui alleggia lo spirito di Wagner. Wagner è stato ispirato per le prime note dell'Oro del Reno proprio qui a 50 metri, nella Locanda Universo. Locanda Universo per cui il nostro poeta spezzino molto bravo Fabio Ferrari ha scritto una poesia che è pubblicata nel catalogo. Questa è la ragione per cui questo è il luogo. C'è il Parsifal, c'è l'Oro del Reno, ci sono tante opere di Wagner che sono state tradotte in arte, in arte figurativa, in arte visiva. Qual è il processo che c'è stato dietro un anno e oltre di lavoro? Sì, un anno e mezzo di lavoro. Ascoltavo come da anni faccio quando lavoro sulla musica, ascoltavo, facevo disegni, bozzetti e poi sono nate complessivamente 25 opere. Quindi 25 per 20 anni di gemellaggio ma non soltanto perché non c'è solo l'opera del maestro Vaccarone ma c'è anche il contributo di tanti giovani spezzini oltre al poeta Fabio Ferrari. Sì, c'è un testo di Mattia Lapierie, un giovane storico che si è già misurato col futurismo facendo delle pubblicazioni. Poi c'è un testo di Luca Beatrice, uno dei critici più importanti, degli storici più importanti d'Europa che ha curato la Biennale di Venezia e la Quadrennale di Roma. Insomma, un testo di Paolo Asti non come assessore ma come un personaggio che ha seguito il mio lavoro da oltre dieci anni, che ha curato le mie mostre al Camec, all'Inconcentral a New York, a Rapaldo e poi non le ricordo tutte. Quindi questi sono i tre autori principali del catalogo. Possiamo dire che anche questa volta l'arte ha creato una connessione. Sì, l'arte crea sempre connessioni.